Una delle attività del UAC riguarda la primavera la prevenzione dei danni da lupo. Questo predatore crea infatti ancora, nonostante sia tornato da alcune decine di anni in Appennino, qualche problema agli allevatori e noi diamo il nostro supporto attraverso la donazione di recinti elettrici di difesa per il bestiame, così di chi recinti antilupo, ma in passato sono stati realizzati anche diversi recinti fissi. Oltre ai recinti un altro sistema di prevenzione molto efficace è l'uso dei cani da guardiania o cani pastore e da un paio di anni ormai abbiamo creato una rete di contatti con alcuni pastori molto in gamba che hanno cani da lavoro efficienti e doniamo cani da pastore a quegli allevatori che invece ancora non hanno pensato a questo sistema di prevenzione che è veramente efficace. I cuccioli di pastore in genere nascono direttamente in stalla perché sono figli di cani da lavoro e la nascita in stalla praticamente fa sì che il cane già appena nato sia imprintato con l'odore delle pecore e crescendo identifichi le pecore come un proprio casico specifico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!